Non ci sono più scuse, abbandonare i rifiuti non va bene e non conviene. Con questo slogan il comune di Montesilvano, in sinergia con Formula Ambiente e Sapi, ha inaugurato questa mattina il centro di raccolta in via IN nella città adriatica, alla presenza del sindaco Francesco Maragno, dell'assessore all'ambiente Paolo Cilli e di Nicola della Corina, responsabile Abruzzo per Formula Ambiente. Il centro, realizzato dalla stessa, sorge su un'area di 550 metri quadrati, di cui più di 400 di piazzale asfaltato, di fianco alla cabina primaria Enel di ATM-MT. È completamente illuminata e videosorvegliata e sarà possibile conferirvi i rifiuti, quali apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti pericolosi, sfalci di verde e potature, piccole quantità di inerti. A disposizione dell'amministrazione comunale, anche due nuovi mezzi ecologici per la pulizia delle strade. Prossimo impegno per l'amministrazione, un centro del riuso, dove le persone potranno scambiarsi oggetti per arrivare a conferire in discarica un numero inferiore di materiale. Oggi finalmente apriamo il primo centro di raccolta di Montesilvano, dove si potranno conferire i rifiuti, compresi gli ingombranti e anche i rifiuti da trattare in maniera particolare, quindi eliminando sostanzialmente tutti quanti gli alibi per i cittadini scorretti, che finora hanno continuato a conferire i rifiuti per strada. L'obiettivo è quello intanto di aumentare le percentuali di raccolta differenziata, in modo tale da abbattere anche i costi della tariffa, ma soprattutto sostenere le politiche ambientali e restituire il massimo decoro alla città. Sì, oggi c'è molta soddisfazione perché dopo qualche mese di attesa siamo riusciti ad aprire questo centro di raccolta che permetterà ai cittadini di portare in autonomia tutti i rifiuti ingombranti e non di cui si vogliono disfare, quando vogliono, tutti i giorni, tre ore al giorno, è possibile portare in maniera gratuita i rifiuti presso questo centro di raccolta, invece di abbandonarli vicino ai cassonetti. Allora, questi due mezzi riguardano l'igiene urbana, sono dedicati allo spazzamento e sono delle proposte per il futuro. Noi andiamo dietro a quello che chiede l'amministrazione, cioè usare sempre mezzi più green, ecologici, infatti abbiamo dei mezzi totalmente elettrici per lo spazzamento della parte rivierasca del comune.